Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Mentre il grande fratello si avvicina al suo culmine, le sorprese non mancano di certo. Beatrice Luzzi si è assicurata un posto nella storia del reality, diventando la prima finalista dell'edizione corrente, un risultato che ha scatenato un vero e proprio tsunami di emozioni. La puntata di lunedì sera ha visto un'accesa competizione tra i concorrenti, ma è stata Beatrice a conquistare il cuore del pubblico, superando di gran lunga i suoi avversari, Massimiliano Varrese, Rosy Chin e Grecia Colmenares. La vittoria di Beatrice non è stata soltanto un trionfo personale, ma ha anche sottolineato l'affetto e il sostegno incondizionato del pubblico che ha seguito e sostenuto la sua avventura all'interno della casa più spiata d'Italia. Visibilmente commossa, Beatrice ha espresso la sua gratitudine, ringrazio profondamente Alfonso, il pubblico e tutti coloro che mi hanno supportata in questi cinque mesi intensi, investendo in me il loro tempo, affetto e risorse. Il commento di Giampiero Mughini ha sigillato il successo di Beatrice, evidenziando come la sua vittoria non abbia lasciato spazio a dubbi o competizioni, Beatrice ha semplicemente dominato il gioco. Questo episodio segna un capitolo decisivo per il Grande Fratello, promettendo un finale di stagione ricco di suspense e colpi di scena. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.